Arriva, arriva, arriva il teleport Mamma mia il main grab, mamma mia, cazzo che potenza Mamma mia signori, questo trash, questo trash mai vista, una cosa del genere Mamma mia, mamma mia, questo è cazzo altro che Paolo Cannone signori Questo, queste sono le azioni che noi vogliamo, questo game, c'è, c'è, questo è, questo è trash signori Questo è trash, queste sono le skill, le pro skills, mamma mia E non sono main, premo ctrl 6, non ho neanche la cazzo di cosa che esce sopra Non lo gioco mai trash support E invece, proprio quando serve, c'è lui, col suo grab, a fare le pro plays Il flash di Diana, il predict, tutto quanto signori, tutto quanto torna Per essere main trash assolutamente Questo è, questo è quanto, mamma mia